salve buongiorno a tutti oggi è sempre il 9 e stamattina voglio dare delle previsioni del 10 lotto e altre previsioni che poi vi spiego allora dalle 11 alle 12 i numeri del 10 lotto sono 72 73 74 ovviamente dovete giocare un numero solo se volete le potete giocare tutte e tre come volete comunque il l'obiettivo è avere l'oro quindi altrimenti non è che la lottomatica paga molto questi sono i numeri eventualmente con dei numeri già garantiti potete aggiungere eventualmente i vostri numeri sappiate che ecco 10 lotto io e mazzotta siamo in collaborazione e abbiamo delle tavole che sono superlative con gli orari e tutto allora qua c'è un programma nuovo che non per me non è nuovo ma per voi sì e dato che so che molti di voi piace giocare un numero però un numero sulla ruota fissa la tira alla lunga no tante volte voi giocate un numero magari anche per un mese due mesi e non esce mai ma esce su tutte le ruote meno quelle che avete vi hanno dato indicato per velocizzare la situazione io darei magari anche tutti i giorni non lo so se volete speculare su questo programma su questi numeri vediamo se se si riesce a fare questa questa cosa perché poi i giocatori voi giocatori siete un po originali no giocate i numeri dei vostri parenti dei morti dei vivi e gli anniversari quando poi in realtà i numeri sono di tutti ed escono quando devono uscire questa è la sintesi allora io vi do questi numeri da giocare sulle ruote del sole se volete speculare il 78 il 16 potrebbe potrebbe lo dico al condizionale uscire lambo secco se potrebbe ma non lo garantisco garantisco i numeri o il 78 il 16 e comunque dovete giocare tutti e due assieme fatto sta che se giocate 6 euro no giusto per fare il conto l'automatica venne da 11 quindi siete già dentro alla vincita no quindi potete speculare benissimo e magari andare a rialzo allora per il momento ho deciso che questo queste previsioni visto che sono mensili e non potete prelevarle poi fare magari gelotologi vengono a prendere poi ci attaccano sulle loro avete capito no è possibile è probabile che li inserisca tutti i giorni quando faccio il video fino a dicembre fino alla fine di dicembre poi vediamo a gennaio come evolve questo programma perché l'evoluzione io lo capisco subito come come funziona l'evoluzione la vedo se li giocate non li giocate perché se non li giocate me li gioco io e mazzotta bene questo è tutto io vi auguro anche da questo video uno splendido sabato una bellissima giornata fa freddo qui a milano fa molto freddo e ti saluto ninetta ciao e grazie